Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. In questi giorni ci arrivano diverse notizie di incontri, di rassicurazione sull'arrivo di nuove personale, potenziamento di attrezzature. Dovrebbe migliorare la situazione. Chiediamo a lei quanto di tutto questo si realizzerà in tempi stretti. Migliorerà la nostra situazione, la situazione dell'ospedale? Io credo sicuramente sì. Il direttore generale è un galantuomo, è una persona che quando prende gli impegni li mantiene in maniera veloce e soprattutto non dà adido a dubbi. Certo è che ci sono le procedure che devono essere espletate, quindi a breve usciranno sulla gazzetta ufficiale, proprio in questi giorni, 115 assunzioni per il personale medico che poi dovrà essere redistribuito. Quello che ci preoccupa è quale sarà la quota di questo personale medico che arriverà nell'ospedale di Vallo. Perché nell'ospedale di Vallo, come ben si sa, abbiamo varie unità operative che sono in sofferenza cronica per la mancanza di personale e l'emblema più grande è rappresentato proprio dalla cardiologia, che è comunque una struttura complessa su cui dovrebbe ruotare tutto quello che afferisce al Dipartimento Cuore, che ha una carenza di medici e per la qualcosa adesso non è attiva, ma soprattutto la chirurgia vascolare. Non dimentichiamo che l'ospedale di Vallo, dopo tante lotte politiche, sindacali, sociali, è stato inserito nella rete dell'emergenza come idea di primo livello. Cosa significa? Che noi siamo un punto di riferimento per tutto il territorio che abbraccia il Vallo di Diano e il Cilento. Se poi ci vengono a mancare quelle che sono delle unità operative essenziali per trattare il paziente in urgenza, allora capisci bene che c'è un problema. Sono sicuro che il Direttore Generale metterà a mano su questa situazione e che arriveranno le forze. Nel frattempo però sono otto mesi che questa chirurgia vascolare è accorpata, noi abbiamo contestato all'epoca, continuiamo a contestare questo tipo di accorpamento perché non è sintomo di qualità e stiamo cercando in tutti i modi di farla riaprire. Non so quali sono le azioni che ha intrapreso la Direzione Sanitaria di Presidio in merito a questa problematica perché non si confronta in particolare con la nostra sigla sindacale. Non è un problema perché fortunatamente abbiamo, ripeto, un Direttore Generale che è un galantuomo e che ci tiene aggiornati. Tanto per fare un esempio, la problematica 118, che comunque è una problematica seria, ha avuto un anno di proroga grazie all'impegno di questa amministrazione generale. Ci conferma, non chiuderà la centrale operativa? Per quest'anno a venire sicuramente no, rimarrà aperta. Poi ci sarà un discorso che sarà da lì da venire e dovrà essere inserito nei percorsi delle reti assistenziali che verranno organizzate e quindi molto probabilmente ci potrebbero anche essere gli estremi affinché si salvi questa centrale operativa. Però questo è un discorso, ripeto, di là da venire, che verrà valutato come si deve dal Direttore Generale. Altro punto focale. Noi in questi giorni, e siamo al mese di gennaio, abbiamo avuto un picco di affluenza eccezionale nell'ospedale. Vi sono pazienti in soprannumero, vi sono pazienti che vengono spostati in altri reparti perché nei reparti di competenza non vi sono posti letto. Il tutto associato alla carenza di personale e di comparto perché oltre ai medici non dimentichiamo che ci sono tante altre figure professionali che girano intorno al paziente e si sta causando quello che è il caos che si sarebbe dovuto verificare in estate. Allora, dobbiamo mettere mano seriamente... Dal mese caldo di agosto ad oggi è cambiato poco, diciamo. Non è cambiato assolutamente nulla, Carmela. Noi abbiamo una continua sofferenza dovuta alle carenze di personale. Chiediamo con insistenza che questo personale deve venire. Al momento, con tutto l'impegno che ci ha messo il direttore, purtroppo i numeri sono quelli. La regione autorizza determinate quote di reclutamento che non sono sicuramente sufficienti per l'ospedale, figuriamoci per tutta l'azienda. Scusate. Però, le cause si devono perorare. E non va bene che è solo un sindacato o i sindacati che le perorano perché potrebbe poi sfociare in una convenienza di parte. Quando si va a Salerno a discutere bisogna anche avere un poco di durezza nelle parole. Non bisogna accontentarsi delle promesse perché le promesse sono promesse proprio in quanto tali. E allora noi vorremmo, da parte della direzione dell'ospedale, un passo decisivo. Perché poi, se andiamo a controllare, questo è sotto gli occhi di tutti, che vi sono delle figure professionali che lavorano in posti dove non devono lavorare, e allora mi faccio la domanda, come mai questi infermieri che sono negli uffici, questi ausiliari che stanno negli uffici, continuano a lavorare negli uffici in un momento in cui non abbiamo personale. Io ripeto sempre, molte persone potrebbero avere dei problemi seri di salute per la qual cosa sono state allocate in quei posti, ma molte altre che noi conosciamo e che abbiamo denunciato stanno molto bene, molto meglio di me in questo momento e continuano a lavorare negli uffici. Insieme alla CGL abbiamo chiesto al direttore generale di avviare una ricognizione di tutto il personale dell'ASIL perché non è un problema solo vallese, è un malcostume generalizzato. Questa commissione è partita a settembre, ancora oggi non ci hanno dato i risultati, pur sapendo noi, perché abbiamo comunque i nostri canali di comunicazione, che attualmente abbiamo circa 180 infermieri che sono negli uffici. All'ospedale di Vallo? No, no, in tutta la provincia, però l'ospedale di Vallo è uno di quelli che si difende bene da questo punto di vista. Allora, ripeto, in un momento in cui c'è bisogno di dare maggiore assistenza, in un momento in cui purtroppo le patologie legate al sistema respiratorio, l'influenza che colpisce tanto i pazienti, tanto gli operatori, sarebbe bello da parte della direzione sanitaria fare un bel passo e dire va bene ragazzi, siccome ci sta carenza, date una mano anche voi. Questo non accade e questo oggi è intollerabile perché magari fino a ieri lo si poteva anche sopperire perché c'era più personale. Noi abbiamo personale che è andato via, abbiamo personale che purtroppo è deceduto, abbiamo personale che si è trasferito e non è stato mai rimpiazzato. E questo oggi è intollerabile. In un paese che si reputa civile questo non può accadere. Quindi ci devono dire, se quelle persone hanno delle limitazioni per cui possono stare in quel posto, altrimenti tornano a lavorare dove sono stati assunti per lavorare. Questa è la nostra posizione.